Le bevande non alcoliche sono di diverso tipo. Naturalmente ci sono quelle naturalmente non zuccherate e quindi l'acqua, il caffè, il tè, il tè verde e poi ci sono invece quelle che sono le bevande zuccherate, naturalmente zuccherate, quanto a un contenuto di zuccheri superiore al 5% o artificialmente zuccherate, pensiamo quelle dolcificate che ci sembrano così ben salutari e quindi le classiche bibite zero che pensiamo di poter assumere, ma non è proprio così. Le bevande zuccherate possono avere un contenuto di zuccheri molto vario, è anche 35-40 grammi, ciò significa che quando noi beviamo una lattina di aranciato o di Coca Cola è come se mangiassimo una merendina, ha lo stesso contenuto calorico, ma ha il doppio di contenuto di zuccheri, attenzione, quindi comporta al momento in cui io l'assumo una bomba, un'esplosione di glicemia e di insulinemia che si è visto può provocare un aumento di pressione alta, di diabete, di obesità, di aumento di quella che è la circonferenza della vita, quindi di quell'obesità, quella che fa male, quella addominale e purtroppo un aumento anche di infarti, di ictus e di morte cardiovascolare. Non solo questo, purtroppo queste sostanze hanno anche il rischio di fare ci ammalare di più di cancro e questo è più frequente nella donna. Si è visto che infatti quando beviamo tanta quantità di queste bevande zuccherate ci poniamo a un rischio che può diventare anche molto elevato, si è visto più del 18% rispetto a chi non le assume per cancro, ma soprattutto della mammella, della prostata e del colon. E quindi attenzione alla qualità delle bevande che ingeriamo, ma anche la quantità, perché se ne assumi 1 a 4 volte al mese è un conto, hai un rischio di omeonire per una morte precoce dell'1% in più rispetto a chi non le beve mai, ma se ne assumi da 1 a 5 volte alla settimana, quindi quasi una volta al giorno, il rischio diventa del 6%, ma attenzione se ne prendi da 1 a 2 al giorno puoi morire di più e più precocemente del 14% e addirittura il 21% se ne prendi più di 2 al giorno.